Un piano per erradicare l'epatite C dalla Toscana in tre anni, l'assunzione di 41 precari in regione tra 2018 e 2020 e l'accesso più veloce agli incentivi per libri e materiali scolastici. Sono gli oggetti delle tre delibere approvate dalla Giunta regionale e presentate in un briefing dal presidente della regione toscana Enrico Rossi. 44 milioni stanziati per trattare con i farmaci ogni anno 6.221 pazienti affetti da epatite C, hanno precisato il presidente e l'assessore Stefania Saccardi incrementando l'offerta ambulatoriale per coprire entro il 2020 gli attuali 18.500 pazienti toscani. È un fatto di igiene pubblica importantissimo, rimarranno ovviamente delle risultanze sparse in giro che potranno essere curate ma l'erradicazione di una malattia da un territorio non riguarda solo chi è malato ma riguarda anche le persone che sono sane perché eradicandolo si impedisce la malattia. Le altre due delibere approvate dalla Giunta riguardano lavoro e scuola. Su quest'ultimo fronte, ha detto l'assessore all'istruzione Cristina Grieco, si alza fino a 15.748 euro l'Isee per accedere agli incentivi per i libri scolastici, mentre l'importo sale a 280 euro. anticipata prima della fine dell'anno scolastico la presentazione delle domande per poter erogare velocemente i contributi all'inizio del prossimo. Riusciremo ad erogare i finanziamenti già a settembre in modo che queste famiglie possano spendere il bonus e acquistare i libri o acquistare altri dispositivi scolastici, didattici che servono ai ragazzi per andare a scuola. La Regione ha poi recepito il decreto Madia sulle stabilizzazioni dei precari con la delibera illustrata dall'assessore Vittorio Bugli che nel triennio 2018-2020 prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 26 funzionari e 15 assistenti con contratto a termine. Le stabilizzazioni avverranno tramite bando e riguardano gli enti dipendenti dalla Regione, ARPAT, ARS e IRPET.